Londra il Chelsea scrive di nuovo la storia della Premier League con l'acquisto di Moises Caicedo. Da Brighton. I dati non sono stati conosciuti ma la BBC parla di 116 milioni di euro che possono salire a 133 con. I bonus. Più dei 128 milioni proposti da Liverpool. I gabbiani avevano accettato l'offerta di Rez. Ma alla fine pesava la volontà di Caicedo. Che voleva solo il Chelsea. Questo è l'acquisto più costoso nella storia del calcio inglese. Superiore a 124 milioni di euro pagati lo scorso gennaio sempre dal Chelsea a strappare Enzo. Fernandes dal Benfica.